Mi farà senz'altro il piacere sapere che nella love suite hanno passato la notte Leonardo DiCaprio, Charlize Theron, Sting e Pupo. Che è? Una pusta, che è? Ho scritto per Valerio d'Aester con una cosa dura dentro. Mon amour. Dove vai te? Vado a chiedere ad Esther che cosa significa Costanello. Se non me lo spieghi te, glielo chiedo a lei. Vede? Mon amour. Beh, un po' borgale. Ma l'altro. Mi dici che si è socia sta roba? Ma Esther non è tornata, stava al vostro matrimonio. Stiamo girando tutta Roma la prima notte di nozio. Non serve che vieni con me, ci vado da sola. Ma è successo qualcosa? Ma che ci fai qua? Non lo so. Perché se ve lo dico non ci credevo. Tu, tu dicelo. La vita è dalla parte tua, è di Eleonora. Inventatevi un sogno. Ma stai da solo? Lei è vitale, fantasiosa, una mezza matta. Più borderline. Trovi sempre un pretesto. Hai seccato quattro fidanzati. L'ultima rovina. Questa sarebbe la mia prima notte di nozze. È la mia prima notte di nozze. Io per esempio sono stato fortunato. 21 anni di matrimonio ed è ogni volta come se fosse la prima notte di nozze. Puccino, come mai svegli ancora a quest'ora? Dove c***o stai? Ne nanana. Ne nanana. Oh, na ne. No, 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 no. Grazie a tutti.